buongiorno a tutti e benvenuti al primo tutorial sulle sulla scelta delle 150 preferenze per le nomine di supplenza per l'anno scolastico 2023 2024 supplenze si intende di carattere annuale fino al 31 agosto e fino al 30 giugno compresi gli spezzoni potranno fare questa istanza solo coloro che sono inseriti nelle gae o nelle gps di prima e seconda fascia andiamo a vedere come si compila entrati nel sito del ministero dell'istruzione proprio c'è un'icona di riferimento per le supplenze dell'anno scolastico 2023 2024 entrando col proprio speed si entra proprio in questa pagina di informatizzazione nomine supplenze dove ci saranno le indicazioni sulla compilazione e l'inoltre la domanda è molto importante sapere che quando si va a compilare la domanda la domanda rimane salvata per eventualmente riprenderla in un secondo momento dunque tutto il lavoro che andrete a fare per la compilazione delle varie sezioni in particolare sono otto sezioni ma non tutti dovranno compilare tutte queste otto sezioni però rimarrà tutto salvato e si poi si potrà alla fine del lavoro anche a più riprese poi inoltrarlo qualora si volessero modificare fino al termine della scadenza del 31 luglio alcune scelte o si vuole appunto modificare e il l'elaborato già inoltrato bisogna annullare l'inoltro fare annullamento dell'inoltro e l'aspirante dovrà quindi procedere alla ricompilazione e alla modifica ecco diciamo del delle scelte già effettuate in precedenza comunque da questa pagina basta fare conferma per andare avanti quindi si entrerà nell'elenco delle domande cioè ogni aspirante avrà il riferimento di ciò che ha da inserire vedete qui si ha la provincia di inserimento che non è modificabile in questa in questa fase cioè quando siamo in una fase di aggiornamento ma siamo solo della scelta delle 150 scuole per cui ci sarà una provincia non più modificabile ci sanno le gradatorie non più modificabili cioè le gradatorie riferite all'inserimento nella nelle gps in questo caso da 0 41 a 0 40 0 60 0 47 0 37 il sostegno per le scuole medie e il sostegno per le scuole superiori dunque facendo clic su questo tasto vai al dettaglio andremo a vedere che ci sono gli otto step gli otto steppe che ora dei prossimi tutorial andremo ad esaminare uno alla volta che ci sono gli otto steppe che ora dei prossimi tutorial andremo a vedere